Venere è protagonista di storie e di miti, ma gli artisti del Rinascimento non sempre si ispirano alla poesia antica per raccontare queste storie codificate e già molto diffuse. A volte i quadri inventano e ci sorprendono. Per esempio Tiziano in questo dipinto coglie Venere mentre sta bendando amore, sta bendando uno dei cupidi che poi cieco e pericoloso si avventurerà con l'arco e con le frecce a colpire indiscriminatamente gli esseri umani facendoli impazzire d'amore. Quindi questo è un momento preparatorio, è un momento che il pittore sospende all'interno di questo paesaggio che ha gli stessi colori delle vesti e delle ali dei protagonisti. Grazie a tutti.